Avete mai pensato che Giunone potesse presentarsi armata con pelli di capre, lancia e uno scudo bilobato? Io credo di no. L'immagine dell'era greca ha decisamente deformato nell'immaginario collettivo il carattere di Giunone più propriamente romano italico, perciò del culto di Giunone è sopravvissuto nell'immaginario collettivo solo ed esclusivamente l'aspetto diciamo più strettamente femminile domestico, ma Giunone aveva anche altri aspetti e infatti oggi parleremo di Giunone Sospita. Giunone Sospita non è l'unico caso di Giunone armata, magari in un prossimo video ne parleremo. Giunone Sospita compare riportate in moltissime epigrafi ed ediche, spesso riportate con la semplice sigla ISMR, che sta per Iuno Sospita Mater Regina, o nella variante latina che comunque è simile, e compare appunto con una funzione bellica, guerriera, che è connessa persino alle purificazioni e ai Lupercalia. Ma vediamo meglio cosa significa Iuno Sospita e che funziona viva nel mondo romano. Nell'immaginario collettivo tendiamo ad immaginare Giunone come la classica figura divina femminile e fedele al marito, Giove, e senza nessuna particolare virtù. Ma nella realtà nel mondo romano e latino non è così. Quest'immagine pregiudizievole deriva dall'influenza greca, in particolare da quella del culto di Hera, ma nel mondo romano Giunone, la Giunone arcaica, aveva anche delle altre funzioni, persino guerriere. Quella di cui parleremo oggi è appunto Giunone Sospita, che compare in moltissime dediche con la sigla ISMR, che sta per Iuno Sospita Mater Regina, o nella variante più propriamente latina che comunque è simile. Ed è questa divinità, che è questa Giunone che compare armata con una lancia e uno scudo bilobato, che è tipo quello che portavano i sacerdoti sali, una pelle di capra che fungeva da elmo armatura e dei sandali a punta. Questa Giunone compare anche in diverse raffigurazioni vascolari che mentre si scontra con Ercole. Il suo culto principale era all'Anuvio, ma il culto appunto era esteso a tutto quanto Lazio, tant'è che troviamo una festa dedicata a Giunone Sospita a Roma il primo febbraio. Sospita significa letteralmente salvatrice e la sua presenza con i termini regina e mater farebbe sospettare che ricalcasse la triplice funzione dei culti indoeuropei però racchiusi in un'unica divinità. Regina la prima funzione, che è quella legislativa magica, sospita la seconda funzione, quella guerriera, e mater la terza funzione, quella connessa alla fertilità e alla produttività. Il culto di Iuno Sospita a Roma risale a prima del V secolo a.C., epoca a cui sono datate alcune antefisse che la raffigurano che sono state ritrovate a Roma. Queste antefisse avevano molto probabilmente una funzione apotropaica ed è interessante il fatto che compaiono così raffigurate perché è proprio Roma ad imporre questo modello rappresentativo alle altre città del Lazio. Il suo culto era presente a Roma sul Palatino, nei pressi del tempio dedicato a Magna Mater, come abbiamo detto fin dall'inizio del V secolo a.C. Il culto di Iuno Sospita si lega, dal punto di vista mitologico, fortemente con quello di Giunone Lucina, di cui abbiamo parlato nel video precedente. E il mito in questione è quello del Ratto delle Sabine. Al tempo della fondazione di Roma, Romolo si rese conto che la città non sarebbe potuta sopravvivere a lungo solamente con l'immigrazione e comunque con una prevalenza di uomini. Perciò organizzò dei ludi ai quali invitò tutti i popoli vicini, i Sabini, e ad un momento, ad un segnale convenuto, ordinò di rapire tutte quante le donne, scatenando il panico fondamentalmente. E questo consiglio gli venne dato da un'altra divinità, che era il dio Conso, che per motivi calendariali si connette a Romolo, Quirino, per tutta la questione del ciclo del farro. Comunque ne parleremo in un altro video. Nessuna di queste donne venne però violentata o costretta. anzi, esse lentamente conoscendo l'animo romano, ci dice Ovidio, decisero spontaneamente di sposare appunto i romani. Tuttavia queste donne non rimanevano incinte, molto probabilmente perché vi era stato un atto impuro commesso dai romani. Romolo perciò andò nel bosco sacro Gionone Lucina a pregare per far sì che le donne rimanessero incinta. E una voce dal bosco uscì dicendo italidas, matres, inquit, sacer, hircus, inito. Cioè, un sacro caprone penetri le donne d'Italia. Questo segno venne, lasciò profondamente sconvolte non solo le donne che appunto dovevano subire questa cosa, ma anche i mariti e Romolo stesso. Si interrogò un augure etrusco il quale risolse la cosa sacrificando un capro, facendo con le sue pelli il famoso amiculum Iunonis, questo frustino che utilizzavano i Lupercalia, e cominciò a fustigare le donne. Da qui nacque il rito dei Lupercalia e, dicevo, mette in connessione quindi Gionone Lucina che protegge le partorienti con Iuno Sospita che appunto vestiva pelli di capre. Ma perché le capre? Perché la capra, in una tradizione sia romana che greca, aveva qualità purificatorie. Si dice che sfregandosi la pelle di capra addosso ci si potesse purificare. Perciò Gionone Sospita è guerriera, ma ha anche una funzione purificatrice e non è un caso che dunque la sua festa compaia il primo giorno del mese dedicato alle purificazioni. Si è addirittura ipotizzato che poiché non c'è nessun riferimento ad una dea februa, se non appunto nelle speculazioni sull'etimologia del mese di febbraio, non ci sono templi dedicati a februa, non ci sono deidi che non ci sono epigrafi, ma solamente appunto alcune fonti latine, si è ipotizzato anche che il mese di febbraio non fosse sacro a questa dea februa, ma fosse sacro proprio a Gionone Sospita. È interessante il fatto che si trovi a combattere proprio con Ercole, perché appunto se Gionone Sospita ha una funzione purificatrice, il suo combattimento contro Ercole è proprio perché lui in quel momento rappresenta l'opposto della purificazione. Ancora sul legame tra Gionone Lucina e Gionone Sospita è il fatto che Gionone Lucina veniva appunto festeggiata alle calende di marzo, Gionone Sospita alle calende di febbraio ed esattamente a metà strada si trovavano le feste dei Lupercalia. Spero che anche questo video sia stato interessante, se così fosse lasciateci un placet e un commento e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che i commenti aumentano la visibilità del video, per cui se volete anche solo scrivere un saluto o una qualsiasi cosa, fatelo perché ci sareste di grande aiuto. Valete optime, in pace Deorum.